Come cambierà l'intelligenza artificiale il mondo del lavoro? Come sarà ridisegnato il rapporto tra noi personalmente, il datore di lavoro, i clienti, la relazione che avremo con gli altri soggetti economici? Anzi, per meglio dire, come sta già cambiando il mondo del lavoro? Perché l'intelligenza artificiale è già presente nella nostra vita quotidiana e l'impatto che sta avendo è tutto da considerare, da analizzare con lucidità. Perché è giusto e corretto un certo approccio critico per comprendere i dettagli, i rischi, oltre che le opportunità, ma vanno visti con attenzione e con razionalità, lasciando perdere, se vogliamo, degli approcci emotivi che potrebbero portarci fuori strada. La relazione tra domanda di lavoro e offerta di lavoro può essere molto efficientata da strumenti come quelli dell'intelligenza artificiale generativa, così come già oggi la tecnologia ci aiuta tantissimo. E' quello di cui parliamo in questa puntata di Focus, qui al Sole 24 Ore, insieme ai nostri ospiti che vado a salutare. Intanto qui in studio con me abbiamo Gioia Novena e Gwenda Govena, che sono le fondatrici, i founders di Next Top, che è una società di recruiting. Buongiorno, buongiorno a entrambe. Grazie per l'invito. Cognome uguale, insomma sono sorelle, ecco, svelo questo grande segreto, diciamo così, che vorrei mantenere via nascosto. Ma saluto anche gli altri ospiti che sono collegati con noi, innanzitutto Martina Mauri, che si occupa al Politecnico di Milano di HR, di risorse umane, anzi per dire tutto la carica precisa, support in digital innovation in HR practices and edtech industry. Buongiorno Mauri. Buongiorno, grazie dell'invito. Ho detto bene, pronunciato bene l'incarico. Sì, io sono direttrice dell'osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, che è un osservatorio che si occupa appunto di fare ricerca per tutto quello che è l'innovazione nell'ambito delle risorse umane, con un particolare focus rispetto alla trasformazione digitale. Eh sì, perché in questo periodo tantissime risorse sono impiegate nel capire, nel monitorare cosa sta accadendo e cosa potrà accadere, perché è fondamentale avere un'idea della direzione che stiamo prendendo, che abbiamo preso per eventualmente correggere o capire dove stiamo andando. Saluto anche l'altro nostro ospite, che è Giuseppe Santonato, e qui, vabbè, è un po' non scioglilingua, già lui ride che lo sa, però seriamente si occupa di intelligenza artificiale in EY Europe West, giusto Santonato? Corretto? Buongiorno a tutti, grazie. Buongiorno, la dicitura AI leader di EY Europe West, corretto? Sì. Quindi voi analizzate in EY, che è una delle più importanti società di consulenza al mondo, quello che è l'impatto dell'intelligenza artificiale nei vari settori. So che avete anche licenziato, così si dice, un importante report negli ultimi tempi, proprio per capire come stanno orientandosi le aziende. Tra poco ne parliamo. Innanzitutto vorrei coinvolgere Gioia e Gwenda Novena, proprio per capire la loro esperienza di utilizzo dell'intelligenza artificiale per la vostra azienda, che è un'azienda di recruiting. Gioia, voi avete software, avete elaborato una serie di... Partiamo dal particolare per andare al generale e capire, insomma, questo mondo come sta cambiando. Sicuramente un software che noi utilizziamo è il classico generico, per non fare nome, degli Applicant Tracking Systems, si chiamano così gli ATS. Questi software che sono piuttosto diffusi, anche se non diffusissimi, perché ci sono delle aziende che purtroppo, soprattutto nella fascia delle PMI, si rivolgono ancora ad Excel per, diciamo, avere dati. Però diciamo che questi software Applicant Tracking Systems sono dei software che ti permettono di ricevere candidature, quindi parliamo di curricula e cover letter, e analizzare tutti questi dati. Una volta che il software ha tutti questi CV e tutti questi dati, riesce a fare delle scremature. Quindi tu lo imposti, l'umano lo imposta, a seconda di determinate parole chiave, e ricerca il candidato che desidera. A quel punto il software restituisce una lista di candidati per ordine di allineamento rispetto alle parole chiave che ha impostato. Possiamo fare anche degli esempi concreti. Per esempio, cerco un direttore commerciale, e quindi andrò a dire al mio Applicant Tracking System che mi servono determinate parole da ricercare all'interno di tutti questi CV, quindi per esempio la parola vendite, la parola commerciale, la parola direttore commerciale, la parola fatturato, e il software andrà a vedere tutti quei CV che hanno queste parole chiave e mi restituirà quelli che hanno il maggior numero di parole chiave di questo tipo all'interno dei CV. Ecco, Guenda, quindi una prima scrematura essenziale per facilitare il lavoro dei recruiter e andare un po' più precisi sui candidati veramente appetibili per le aziende, diciamo così. Sì, perché un problema comunque grosso in generale è quello di arrivare a dei candidati davvero allineati a quello che noi stiamo cercando, principalmente questa è la problematica delle aziende quando vanno a reclutare candidati, quindi si devono per forza valere di software di questo tipo, altrimenti con tutte le candidature che ricevono sarebbe quasi impossibile, no? Arrivare ad un match tra domanda e offerta. Io volevo aggiungere anche una cosa rispetto a ciò che utilizziamo noi spesso ed è la personalizzazione, cioè l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per personalizzare, vuol dire personalizzare l'offerta di lavoro. Quindi io non vado semplicemente a scrivere un'offerta copiandola magari da altre offerte di lavoro già presenti sul mercato, ma faccio fare all'intelligenza artificiale uno scouting delle competenze ideali per la posizione che io ricerco e quindi mi faccio aiutare a scrivere delle offerte di lavoro che possano appunto attirare candidati più in linea. Questo vale anche per le mail di feedback che tramite l'intelligenza artificiale io posso personalizzare ancora di più, ma anche per le domande da colloquio. Quindi le classiche domande da intervista che vediamo su internet possono essere personalizzate sia tramite chiaramente l'empatia del recruiter ma anche avvalendosi di intelligenza artificiale. Quindi anche l'impostazione della domanda o della proposta in qualche modo può essere uno strumento che va a interfacciarsi con strumenti di intelligenza artificiale per rendere il dialogo e l'intermediazione più efficace. Sì, assolutamente più fluida, più strutturata e più allineata le esigenze sia del mercato che dei candidati che chiaramente dell'azienda per cui lavoro se sono un reclutere esterno. Ecco, volevo sentire Martina Mauri perché questo è un caso particolare di una tendenza generale a utilizzare l'intelligenza artificiale già oggi nell'efficientamento delle intermediazioni. Quali sono gli altri aspetti che voi state analizzando in questo campo che vedono l'intelligenza artificiale in campo protagonista sotto molti aspetti nel mondo del lavoro? Sì, allora innanzitutto bisogna dire che dai dati dell'osservatorio quello che emerge è che sono ancora poche le organizzazioni che utilizzano di fatto l'intelligenza artificiale in ambito HR quindi per quanto concerne la gestione delle risorse umane. Il dato è un 32% che utilizza almeno una soluzione di intelligenza artificiale. Quelli più diffusi sono i più classici chatbot quindi che sono degli assistenti virtuali che rispondono alle domande dei dipendenti ad esempio chiedendo quante ferie mi rimangono quindi anche delle domande che sono tendenzialmente di tipo più amministrativo e che quindi mi permettono di recuperare in maniera più facile delle informazioni che magari ho a disposizione degli applicativi aziendali ma in maniera più facile comunicando attraverso una chat e quindi risponde in tempo reale 24 ore su 24. Questo è diciamo l'utilizzo più diffuso ad oggi nelle organizzazioni. Un altro utilizzo diffuso è rispetto alla formazione. Ad oggi ci sono molte piattaforme di formazione che hanno all'interno dei sistemi, degli algoritmi di intelligenza artificiale che permettono sia di adattare i contenuti formativi che propongono allo studente in base al ritmo con cui lo studente apprende in base a quelle che sono le sue preferenze se preferisce un video piuttosto che fruire di un testo scritto sia proprio dei sistemi di recommendation quindi che suggeriscono un contenuto formativo magari sulla base della valutazione di performance management o quindi sulla base di quelli che sono effettivamente i miei gap formativi sulla base del mio ruolo sulla base magari anche di quello che devo fare oggi. Oggi ho una riunione sulla blockchain e quindi mi suggerisce perché non vai a ripassarti che cos'è la blockchain. Quindi ci sono tutti questi sistemi appunto di recommendation che propongono in maniera proattiva dei contenuti formativi analizzando dei dati che possono essere competenze, interessi, cosa ho guardato la settimana scorsa quindi cercando di far sì che la formazione sia sempre anche più proattiva da parte della persona. E poi come si diceva prima ci sono tutti quei sistemi legati proprio al mondo del recruiting che è un po' l'area dove ad oggi sono più diffusi oltre all'aspetto di chatbot amministrativi sistemi di intelligenza artificiale in ambito HR proprio come veniva detto soprattutto per facilitare lo screening dei curricula in modo tale da far sì che la recruiter abbia uno strumento per prendere delle decisioni con più dati a disposizione potendo anche vedere quelle che sono delle correlazioni che altrimenti difficilmente potrebbe vedere. Quindi questi sono un po' gli aspetti più diffusi. Questo è quello che sta accadendo. Io poi la domanda più difficile ce l'ho da rivolgere a Giuseppe Santonato perché io ho capito che l'intelligenza artificiale può rendere molto più efficienti i processi produttivi che oggi già sono in campo perché possono compattarli, assemblarli, velocizzarli pare cose che oggi impiegano tanto tempo per esempio poi ci sono tante cose che ancora non so che l'intelligenza artificiale può fare lo scoprirò forse tra tanti anni così come oggi scopriamo certe attività su cui eravamo preoccupati o timorosi e che appartengono al passato insomma quali sono le frontiere che l'intelligenza artificiale può mettere a disposizione del mondo del lavoro dell'interazione tra domanda e offerta che ancora facciamo fatica a focalizzare? Prima abbiamo parlato a dottoressa Mauri parlava del fatto di avere un assistente che fornisce le informazioni il punto fondamentale è quello di pensare al fatto che l'intelligenza artificiale ci permette di interpolare milioni e milioni e milioni di informazioni e di darci un servizio quanto più personalizzato a quello per cui ci serve e questo è il primo pezzo il secondo pezzo è continuiamo a parlare di qualcosa di come caso d'uso quando invece dovremo parlare di come diciamo di future case tecnicamente di quello che ci aspetteremo domani dall'intelligenza artificiale o con l'intelligenza artificiale che non è solo creare dei nuovi contenuti ma come oramai veniamo ogni giorno bombardati da OpenAI e da tutti gli altri provare di provare di intelligenza si chiama così artificiale generale ovvero in grado di arrivare a un certo punto proprio a fare delle operazioni di creazione di nuovi contenuti iniziare a prendere anche la parte più emozionale più in palia che abbiamo noi umani iniziare a cercare di algoritmizzarla per dare delle risposte quanto più generate essere in grado di astrare dei concetti cosa che oggi invece l'intelligenza artificiale non ha fantasia tra poco diciamo con i nuovi algoritmi un po' di fantasia saremo in grado di mettercela dentro e quindi avere qualcosa di più interessante quindi lasciarci guidare un po' dai dalle esercizi degli algoritmi può essere istruttivo anche per noi oggi sì sì molto teniamo presente che prima lei parlava di un report che abbiamo fatto assieme a Mentower Group e Sanoma quello che ci aspettiamo che dopo anche un risultato che il Politecnico di Milano nell'osservatorio dell'intelligenza artificiale ha confermato ci sarà un cambio non tanto del fatto del numero di persone o del tipo di persone cioè lei non va a sostituire le persone ma a rendere delle nuove competenze disponibili alle persone quindi ci aspettiamo all'incirca che l'ottanta per cento di quelle che sono le occupazioni come le conosciamo oggi subiranno un cambio di skillset di competenze sottostante e addirittura ci aspettiamo che ci sia un incremento della domanda da un certo punto di vista almeno in Italia dovremo sicuramente utilizzare l'intelligenza artificiale anche per entro il 2035 dare una risposta il gap tra persone che escono dal mondo del lavoro e persone che entrano nel mondo del lavoro perché avremo un disavanzo piuttosto sostanziale e forse l'unica modalità che avremo oggi sarà quella di utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale ecco ci facciamo un esempio di quello che oggi appunto diciamo alle viste che potrà capitare tra qualche tempo che ci potrà cambiare veramente il nostro lavoro perché molti report raccontano come per esempio da qui al 2023 no chiedo scusa al 2030 il 65% delle competenze necessarie nel mondo del lavoro saranno competenze che ancora non sono presenti e quindi nel giro di sostanzialmente cinque anni o poco più dovremmo rivedere parecchio quelle che sono i pilastri insomma quelli che sono i pilastri della nostra capacità produttiva che è un modo brutto per dire insomma quello che noi sappiamo fare insomma dobbiamo essere in grado di fare coding dobbiamo essere in grado di essere anche empatici nei confronti dei nostri colleghi in maniera più strutturata allora sicuramente non partirei tanto dal coding perché secondo me le soluzioni di intelligenza artificiale saranno quanto più possibile lo codo quindi in assenza proprio di codice saranno molto più semplici da utilizzare chat GPT è diventato un fenomeno semplicemente perché era immediato l'utilizzo e tutte le soluzioni di intelligenza artificiale andranno verso quel punto l'esempio tipico è che verrà richiesta alle persone di diventare quanto più in grado di analizzare l'informazione è un risultato che l'intelligenza artificiale propone quindi prendiamoci conto che andremo ad avere quel tipo di chiamiamola così capacità di discernere tra i diversi chiamiamola risultati che l'intelligenza artificiale va a distinguere sicuramente una cosa che andrà richiesta e che verrà richiesta sempre di più e che secondo me inizieremo a vedere già nei prossimi anni nei ragazzi che si affacciano nel mondo del lavoro è quello di interagire proprio in maniera naturale con questi assistenti in maniera diciamo multicanale multimodale non è più solo la scrittura di documenti ma anche la creazione di contenuti diciamo quali immagini quali potrebbero essere dei film qual è la produzione di la parte diciamo più musicale e quant'altro quindi iniziamo ad andare su contenuti quanto più possibili affini a quella che è la nostra capacità non mi aspetto ad avere una grossa chiamiamo così tanti tanti tante skill di natura art di un punto di vista tecnico ma quanto la capacità di entrare in interazioni con queste persone ci sarà bisogno da un certo punto di vista di avere delle persone forti sull'aspetto diciamo tecnico ma per gestire diciamo il provider o diventare in virgola autonomi non essere strettamente dipendenti da terze parti nel creare queste soluzioni ecco teniamo il messaggio è teniamo le aspettative sotto controllo Gioia io volevo aggiungere un esempio rispetto a quello che diceva Giuseppe relativo al mestiere del recruiter cioè come cambierà con l'intelligenza artificiale il mestiere del recruiter di chi seleziona per esempio perché col fatto che l'intelligenza artificiale permetterà a tutti gli operatori del settore di sgravarsi tutta una serie di attività ripetitive come ad esempio lo screening dei CV o il contatto ai candidati sarà fondamentale per i recruiter puntare su determinate soft skill tipo per esempio il fatto di adattarsi a apprendere nuove strategie sull'intelligenza artificiale e diventare dei veri e propri come dire attivatori di relazioni con i candidati quindi concentrarsi sul creare le vere relazioni di valore con i top talent quindi integrare l'analisi dei numeri con quell'aspetto un po' diciamo così diciamo empatico emotivo che è necessario per capire a fondo le persone sostanzialmente esatto Guenda c'è anche un tema quello va sviluppata la parte diciamo personale emotiva però anche l'analisi dei dati di quello che diceva Santonato è fondamentale cioè siamo tutti diventati un po' apprendisti statistici operando sul digitale e questo è una skill è una competenza che è diventata sempre più indispensabile per muoversi nel mondo digitale sì e soprattutto nel mondo del recruiting per chi fa ricerca e selezione del personale nel senso che storicamente la figura delle risorse umane è una figura analogica è sempre stata analogica negli ultimi anni e soprattutto post pandemia si sta richiedendo a questa figura di essere estremamente tecnologica leggevo un articolo in queste sere che diceva il recruiter il dipartimento risorse umane dovrà avere un altro collega nei prossimi anni e questo collega è l'intelligenza artificiale quindi dovrà andare a braccetto con l'intelligenza artificiale anche perché sempre il dipartimento risorse umane che storicamente è sempre stato un dipartimento tra virgolette preso un po' sottogamba negli ultimi anni si sta rafforzando molto sta arrivando a parlare insieme al management delle strategie aziendali e quindi non può non essere tecnologico i dati chiaramente fanno parte di tutto questo anche perché l'intelligenza artificiale generativa si basa sull'apprendimento dei dati quindi più le aziende hanno dati accumulati più possono insegnare alle proprie intelligenze artificiali come gestire i propri processi vorrei tornare da Martina Mauri per capire e per aprire il capitolo rischi opportunità perché l'opportunità le abbiamo un po' definiti i rischi quali possono essere secondo voi secondo il vostro punto di vista la vostra esperienza di osservazione di un'evoluzione del mondo tecnologico che cerca di supportare le esigenze delle imprese e dei singoli sì allora mi rilaccio anche a quello che è stato detto precedentemente sicuramente una grande barriera è proprio il tema delle competenze è vero che spesso nella direzione ICHAR non ci sono ancora le competenze analitiche che invece sono fondamentali per portare avanti queste soluzioni con successo senza quei rischi perché bisogna bisogna sapere interpretare i dati in maniera corretta l'intelligenza artificiale generativa ha il rischio di avere delle allucinazioni quindi di portare degli output che non sono veritieri e quindi una competenza fondamentale è proprio quella del pensiero critico quindi nel saper leggere l'output in maniera critica e capire se l'output è veritiero oppure no quindi sicuramente il tema delle competenze e di una cultura volta al digitale sono le due principali barriere per le organizzazioni e un altro tema importante è il tema dei bias quindi appunto gli algoritmi funzionano su dei dati che vengono gli input che vengono immessi questi dati possono contenere dei bias e quindi puoi portare a degli output che hanno appunto dei bias quindi è molto importante curare i dati che vengono immessi che devono essere di qualità e anche monitorare l'algoritmo proprio per prevenire questi possibili rischi appunto un celebre caso era quello di Amazon proprio nell'ambito del recruiting dove non selezionava donne perché la posizione aperta era un profilo molto IT se non sbaglio quindi dove prevalentemente in passato erano stati selezionati uomini ma perché i candidati erano prevalentemente uomini però questo poi era stato letto come allora gli uomini sono migliori delle donne quindi bisogna sicuramente prestare particolare attenzione in termini di bias e infatti in termini anche di nuove competenze che dovranno essere sviluppate ci sono sicuramente anche delle competenze di etica quindi sono sono d'accordo con quello che si diceva prima che le soft skills saranno sempre più importanti rispetto a queste tematiche quindi serviranno sì dei professionisti esperti di machine learning esperti di intelligenza artificiale ma il vero reskilling e upskilling sarà legato alle competenze di tutti i lavoratori che dovranno appunto sviluppare pensiero critico la comprensione di come funzionano gli algoritmi degli impatti etici che hanno e anche di quando è opportuno utilizzare questi sistemi e quando invece non è opportuno farlo quindi questi sono sicuramente i punti più critici anche per per le persone e poi per le organizzazioni molto interessante molto importante e ci tengo a sottolinearlo perché diciamo così i rischi sono già attuali non sono nel futuro e riflettono quello che noi siamo analogicamente quindi i nostri bias e i nostri pregiudizi volevamo radurli in questa ottica possiamo rifletterli negativamente all'interno di un di un algoritmo che fa selezione o di un sistema di intelligenza artificiale generativa ricordo che secondo un recento report di cui abbiamo dato conto qui a sole 24 ore nel primo quadrimestre del 2024 le richieste di figure specializzate in intelligenza artificiale sono cresciute dell'88% sono quasi raddoppiate rispetto all'anno scorso ad un periodo quello del primo quadrimestre del 2023 che era stato quello in cui chat GPT ma molti altri strumenti intelligenza artificiale si sono imposti all'attenzione generale quindi diciamo un trend molto molto importante torno da Giuseppe Santonato perché vorrei capire quali saranno i lavori del futuro abbiamo provato a dare qualche qualche flash ricordo che un secolo fa uno dei dei dilemmi quando le macchine hanno preso non il sopravvento ma si sono imposte l'attenzione generale quando Charlie Chaplin insomma più o meno in quegli anni girò tempi moderni con la subalternità dell'uomo rispetto alla macchina tema anche del tema di italiano di ieri proposto alla maturità in quello della traccia di Pirandello tratto da quaderni di Serafino Gubbio operatore quando insomma l'uomo diventava uno strumento insieme alla manovella ecco tutto ciò fa parte del passato di un secolo fa le paure ci sono ma poi si cerca di capire dove si va veramente avanti e qual è la direzione scompariranno tanti tanti lavori se ne imporranno altri sarà il saldo positivo come molti dicono Santonato allora in generale prevediamo che ci sia un saldo estremamente positivo mettiamola così soprattutto perché quello che accadrà è stato già indicato sia in studio che dalla dottoressa Mauri avremo bisogno di rivedere il tipo di competenze già delle persone che oggi sono sul mondo del lavoro insegnandogli a interagire con gli algoritmi dall'altra parte però alle persone che iniziano a costruire a sviluppare diverse soluzioni non bisogna solo spiegare come fare l'algoritmo di AI come fare l'algoritmo di machine learning di computer vision di tutte le diverse tecniche che ci sono ma come di renderlo facilmente utilizzabile all'interno di n tipologie di utenze che avremo il cittadino il nostro dipendente c'è il cliente sono diverse esigenze e quindi la cura di essere estremamente digitali nell'operatività è una cosa essenziale dall'altra parte bisogna essere anche bravi prima si parlava di bias sempre in ottica negativa i bias sono anche positivi ci sono alcuni bias che sono fondamentali anche per dare l'intuizione all'algoritmo di funzionare bene molto meglio quindi tecnicamente dovremmo anche trovare quel tipo di persone che riescono a indirizzare gli algoritmi ultimo ma non ultimo se ne parla sempre poco io invece penso che le char in particolare tutti il mondo al pari del mondo del risk management avranno un ruolo essenziale ma non tanto tecnicamente solo per la selezione trovare il talento migliore da portarsi in azienda ma di come far evolvere l'azienda in un modo più che AI driven AI infused dove l'AI diventa qualcosa di tutti i giorni che ti accompagna e ti fa vedere cosa accade io cito solo un paio di studi una è dell'MIT e un'altra di Stanford far utilizzare chat GPT a sette di persone è stato preso un campione di circa 80 persone 40 è stato dato chat GPT a 40 no alle 40 è stato chat GPT dopo che è stato spiegato come utilizzarla al meglio hanno raggiunto delle performance che erano tipiche dei top performer all'interno dell'azienda quindi significa che aumentiamo la capacità di performare l'altro aspetto è che però bisogna spiegare alle persone e io mediamente quello che vedo e che vediamo quando si inizia a parlare di questi strumenti è che noi interagiamo con loro come utilizzassimo un motore di ricerca sono due cose diverse quindi la prima cosa è da fare mettere le char in grado di fornire diciamo tutti quegli strumenti per avere un uso sicuramente completo della inazienda i risk manager cambieranno completamente il mestiere perché prima se ne parlava dei diversi rischi ma sono anche tutta una parte legale normativa di cui saremo costretti a tenerne conto non è solo le IACT teniamo presente che l'Italia è nel suo piano strategico sull'intelligenza artificiale e nel decreto nella proposta nel disegno di legge del 23 aprile ultimo scorso pone un'enfasi sostanziale su questi aspetti sul metter l'uomo al centro per insegnare ma anche per controllare quello che è l'altro ritmo e per metterlo al centro si nivelle le chart deve continuamente formare e dar nuove competenze alla forza lavoro che abbiamo in azienda questo è essenziale tant'è che secondo un altro sondaggio recentemente pubblicato l'87% dei recruiter ritengono che l'intelligenza artificiale non spazzerà via il loro lavoro insomma voi che fate recruiting per conto di azienda che intermediate insomma questa relazione siete fiduciosi ma non è forse il rischio di overconfidence di essere troppo fiduciosi nel vostro nel futuro come vedete queste trasformazioni anche in relazione al vostro alla vostra attività noi anche noi siamo molto fiduciose come la maggioranza di recruiter perché vediamo nell'intelligenza artificiale la possibilità di dedicarci ad attività più gratificanti più valorizzanti per il nostro ruolo e quindi lasciare spazio a tutte quelle attività che sono più strategiche che ci permettono di parlare con il top management e capire che azioni intraprendere sulla parte di HR che personale assumere e soprattutto dedicarci appunto come dicevo prima come ti accennavo prima alle relazioni di alto livello quindi sgravarsi tutta quella parte estremamente ripetitiva è un qualcosa che non può non far piacere ai recruiter quindi siamo tutti abbastanza fiduciosi e contenti che questa intelligenza artificiale ci permetta anche di avere più tempo per la nostra vita privata e quindi migliorare il nostro work life balance staremo a vedere ci sono tanti punti di domanda per il futuro e secondo me è uno dei punti di domanda che poi rilancio anche agli ospiti in collegamento a casa è il seguente cioè l'intelligenza artificiale arriverà a prendere le decisioni al posto dell'umano e decidere quindi chi assumere e chi non assumere questo è un po' il dilemma il punto di domanda che c'è per il futuro ma soprattutto saranno in grado le persone di capire se quelle informazioni che l'intelligenza artificiale ci fornisce per prendere noi queste decisioni beh insomma quanto siamo attivi rispetto a questa capacità di prendere decisioni e quanto saremo invece passivi condizionati dall'intelligenza artificiale questo è un dilemma da un po' da fantascienza ma che ci si pone continuamente Guenda sì dilemma esistenziale diciamo che quello che ancora l'intelligenza artificiale non sa fare è valutare il contesto cioè da un colloquio che io posso fare in presenza di un candidato e trarne le mie conclusioni anche a livello empatico emotivo e capire magari il potenziale di un candidato che mi va a spiegare le sue esperienze pregresse io posso dire questo candidato va bene per questa offerta di lavoro anche se magari non ha esattamente tutte le competenze esatte richieste dall'offerta di lavoro l'intelligenza artificiale lì qual è il rischio che magari possa escludere questo candidato dire no non va bene perché quelle competenze richieste quelle keywords le parole le famose parole chiave da inserire nel curriculum non le ha invece chiaramente la mente umana va ad intercettare il potenziale di un candidato quindi dobbiamo capire come poi l'intelligenza artificiale riuscirà ad integrare il contesto l'analisi contestuale rispetto alle situazioni questa è una bella sfida che al momento insomma non è ancora stata affrontata il vero lavoro è imparare a gestire l'intelligenza artificiale avere quel corretto approccio critico che ci consente anche di filtrare quello che ci dice ed essere autonomi nelle scelte volevo coinvolgere ancora Martina Mauri perché qualcosa ci ha già detto ma insomma mi piacerebbe capire qualcosa di più del studio che appunto il Politecnico di Milano ha fatto sull'intelligenza artificiale applicata alle risorse umane per avere qualche flash delle linee di tendenze future da considerare per il prossimo avvenire di tutti noi allora quello che vediamo è che sicuramente da quest'anno nell'ultimo anno c'è stato un grandissimo interesse per l'intelligenza artificiale soprattutto generativa in ambito HR che è quello che un po' ha dato via a numerose sperimentazioni quindi quello che vediamo adesso è che molte aziende stanno sperimentando appunto strumenti dei generativa ad esempio anche per la scrittura dei job posting quindi magari come prima bozza quindi per andare a progettare una descrizione di un profilo di lavoro quindi ad oggi quello che le direzioni HR stanno un po' sperimentando sono queste tipologie di soluzioni così anche per poi supportare tutto quello che è il lavoro anche di team quindi per dare proprio un supporto alle persone nel loro lavoro quotidiano quindi strumenti proprio legati al supporto del lavoro quotidiano come trascrizioni traduzioni quindi ho una riunione mi magari fa già una bozza di agenda finita la riunione in maniera automatica crea quello che è la recap della riunione con tutti i to do quindi si sta concentrando molto su questi aspetti un po' più operativi legati a soluzioni di intelligenza artificiale generativa le cose gli strumenti diciamo che in futuro potranno avere un impatto maggiore sono sicuramente poi gli strumenti anche di appunto intelligenza artificiale non generativa che vanno proprio a trasformare quelli che sono i processi char come parlavamo prima in ottica anche di appunto recruiting formazione performance management proprio come strumento quindi anche per rispondere alla domanda che è stata posta io credo che il valore del fattore umano rimarrà sempre fondamentale e questi strumenti appunto sono degli strumenti che possono dare tanto possono facilitare il lavoro ma poi la decisione finale sarà comunque dell'essere umano quello che l'intelligenza artificiale può fare è andare a automatizzare e semplificare dei task del mio lavoro e quindi sicuramente i ruoli evolveranno si trasformeranno proprio perché ha un impatto sui task sulle attività ci sono alcuni ruoli che saranno più impattati di altri perché più task del loro lavoro saranno più impattati e quindi poi magari alcuni ruoli andranno in disuso però la trasformazione grossa sarà proprio sui task e quindi ci sarà un'evoluzione dei ruoli un altro elemento che secondo me è interessante da tenere in considerazione rispetto proprio all'impatto che questi sistemi avranno in futuro è anche il contesto in cui ci troviamo in Italia c'è un forte invecchiamento della popolazione le organizzazioni fanno fatica a trovare persone soprattutto in alcune aree soprattutto alcuni profili e l'intelligenza artificiale può essere un'opportunità anche in questo senso proprio perché magari quelle attività meno più automatizzabili possono essere automatizzate e quindi farsi che ci vogliano anche magari meno persone però per quelle attività più ripetitive per svolgere quel ruolo quindi può essere veramente un'opportunità per il futuro Ecco Santonato stiamo avviandoci verso la fine della nostra chiacchierata stiamo cercando di capire la direzione in cui stiamo andando i rischi opportunità le potenzialità anche di un settore molto di un'innovazione deflagrante sotto molti aspetti con tutti gli analogismi del passato in termini di posti di lavoro e quant'altro poi c'è la difficoltà umana di sintonizzarsi rispetto al presente e al futuro soprattutto nelle aziende si diceva siamo partiti dal tema delle piccole e medie imprese che magari non avendo grandi strutture al proprio interno magari faticano a cercare di identificare delle risorse per da destinare all'implementazione dell'intelligenza artificiale o soltanto di interfacciarsi con consulenti esterni che possano in qualche modo fornire delle soluzioni ecco in Italia in particolare lasciando perdere il tema internazionale però ecco quanto questo è un problema nello sviluppo e anche nella corretta implementazione di queste innovazioni nella vita quotidiana di tutti noi allora in Italia abbiamo due fattori che tecnicamente ci aiuteranno uno quello che appunto indicavo come il disegno di legge in cui viene dato una forte spinta soprattutto per le piccole e medie imprese quindi vengono dati degli spazi su cui poter fare queste sperimentazioni cosa naturalmente prevista anche a livello di AI Act a livello Europa in maniera tale da avere degli ambiti come vengono chiamati delle sandbox dove le piccole e medie imprese possono operare in maniera guidata evitando di avere tutta una serie di eroi di conseguenza quel 90% del nostro tessuto infrentitoriale che abbiamo sarà supportata nell'attivare quel tipo di trasformazione che sarà fondamentale l'altro secondo me punto sostanziale per le piccole e medie imprese sarà una stretta collaborazione sicuramente con le diverse tipologie di istituzioni in termini di educazione non solo con l'università ma anche con la scuola media superiore che ovviamente dovranno avere già nei percorsi educativi cosa che sta avvenendo perché se guardo i miei due bimbi sono già nel concetto di coding utilizzando il concetto di intelligenza artificiale in maniera supervisionata già nelle scuole questo sta diventando un qualcosa di normale dovrà diventare ancora più normale e di conseguenza in maniera tale da avere un ghetto piuttosto limitato tra piccola media imprese e grande imprese io però su questo secondo aspetto il ghetto io non lo vedo e vi spiego anche in maniera semplice considerate che se prendiamo le pubblicazioni sull'intelligenza artificiale noi italiani dovremmo essere estremamente orgogliosi del fatto che i nostri atenei gli stanno sfornato un numero di pubblicazioni di rilevanza quindi estremamente diciamo importanti a livello sia accademico che diciamo industriale che è molto superiore a quelli di Francia e Germania quindi le competenze in Italia ci sono e ce ne sono anche di un certo livello bisognerà sicuramente entrare a far più ecosistemi e dopo torna sul fatto delle soluzioni guardiamo che l'intelligenza artificiale generativa già sta creando qualcosa che probabilmente noi pensiamo che sia una matrix ma riusciamo ad avere evidenza di quello che ci manca in azienda non solo guardando quello che è il cibo ma andando a vedere tecnicamente anche come le persone scambiano informazioni tra di loro riusciamo a creare quelle mappe di competenze relazioni che sono fondamentali dentro un'organizzazione perché non bisogna capire solo di che tipo di profilo abbiamo bisogno ma di che tipo di persona abbiamo bisogno perché è la persona che messa dentro soprattutto delle organizzazioni che sono quanto più relazionali diventa sostanziale e l'intelligenza artificiale ci sta aiutando su questo noi in EY abbiamo sviluppato tutta una serie di soluzioni per questo modello soprattutto andare a vedere come la persona funzionerà dentro le nostre organizzazioni e come potremmo supportarla nel suo percorso di crescita l'ultima frase molto impegnativa sembra una cosa così ma come funzionano le persone e all'interno delle organizzazioni come farle crescere in un percorso che da come dire condiviso all'interno dell'azienda con tutti gli altri soggetti è una grandissima sfida ma al di là delle frasi iconiche un elemento andando in conclusione è quello di visto che siamo sotto esame di maturità quindi i ragazzi sono chiamati a dare risposte a sollecitazioni in realtà quello che dobbiamo imparare è fare le domande giuste ai sistemi di intelligenza artificiale generativa per avere risposte adeguate da utilizzare imparare a fare la domanda giusta diventerà evidentemente mi sembra di capire la cosa più fondamentale per stare nel mondo un'opinione rapida in chiusura gioia io sono d'accordo anche perché questo vale anche quando si assina fare le domande giuste riesce ad ottenere le persone giuste per le tue offerte di lavoro per i tuoi ruoli quindi questo è determinante saper fare le domande giuste partendo dalle giuste competenze di cui tra l'altro partiva Giuseppe quindi essere anche un po' giornalisti e psicologi assolutamente multitasking e volevo anche aggiungere una cosa che ci sono già su LinkedIn tante offerte di lavoro proprio su questi tipi di nuove professioni cioè la professione del prompt prompt designer cioè che va a dire all'intelligenza artificiale che cosa fare che dà indicazioni quindi ci sono anche delle opportunità di lavoro reali che sono già in essere e a cui ci si può candidare ecco Mauri questa capacità la dobbiamo ancora sviluppare quella di fare la domanda giusta è sicuramente una delle competenze che saranno più più critiche come appunto quella del prompt quindi di creare i corretti comandi quindi domande alle soluzioni di intelligenza artificiale che adesso ci sono dei profili esperti in questo senso in futuro probabilmente è una competenza che dovremmo avere tutti quindi anche questo è sicuramente un elemento importante da considerare quindi Santonato dobbiamo un po' allinearci nella capacità di essere come si diceva giornalisti psicologi capaci a fare domande ma forse per tornare un po' a Socrate essere un po' maieuti cioè tirare fuori dalle persone e dai sistemi delle cose che possono essere utili un po' per tutti perché alla fine i sistemi di intelligenza artificiale hanno aperto nel primaldello del più grande sistema operativo mondiale che è il linguaggio umano quindi se non siamo in grado di fare la domanda giusta otterremo sempre una risposta quanto più evasiva possibile grazie grazie a Giuseppe Santonato AI leader di EY Europe West per essere stato con noi dobbiamo trovare le risposte giuste dobbiamo imparare a fare domande giuste grazie anche a Martina Mauri supporto in digital innovation in HR practices and e-tech industry del Politecnico di Milano grazie anche a Gioia e Guenda Novena per essere stato con noi founder di Nextop che sta per Nextop cioè prossima opportunità giusto? esatto Nextopportunity cogli la tua prossima opportunità lavorativa e nella vita e questo è nel nome l'augurio grazie a tutti voi da Marco Loconte per averci seguiti ci vediamo prestissimo a tutti buona giornata grazie a tutti